L'ultimo giro, guardate che passo a questo ragazzo lombardo dell'SC Mazzano, Leonardo Zanardini con questo ragazzo lombardo solitario al comando bell'azione che ormai sta durando da diversi giri ma a qualche istante ce lo godremo all'interno dello stadio sono sempre abituato in queste categorie ad arrivi abbastanza monotoli o meglio a gare abbastanza monotone invece bravo coraggioso Leonardo Zanardini che è già entrato nello stadio guardate quanta birra, quanti watt ancora da mettere sui suoi pedali ha fatto una bellissima azione d'attacco e si merita di sentire l'applauso più forte dello stadio di Borgo più di tre giri di azione solitaria per questo ragazzo lombardo portacolori dell'SC Mazzano che vince la batteria 1 della G5 maschile signore e signori vi presento Leonardo Zanardini in seconda posizione c'è Elia Galante un atleta friulano della Banditziol Cycling eccolo è qua sul rettilineo con la maglia blu-arancio seconda piazza per Elia Galante volata per la terza piazza maglia della San Fiorese la maglia rosso-nera della San Fiorese del dorsale 161 e Mattia Tonelle che agguanta la terza posizione come sempre al termine di ogni gara tra poco procederemo alla premiazione della top 5 e allo stesso tempo ci concentreremo sulla prossima partenza in via Gozzer ribadiamo ancora una volta seconda posizione era la maglia blu-arancio di Elia Galante il secondo corridore arrivato non l'abbiamo considerato perché era ovviamente doppiato quindi vince Leonardo Zanardini seconda posizione per Elia Galante terza posizione per Mattia Tonella tra poco la top 5 signore e signore momento della premiazione della top 5 della batteria 1 della G5 a premiarli i ragazzi sarà Giovannina Collanega presidente del comitato trentino della federazione ciclistica italiana al quinto posto Alessio Mancuso Team Bike 2000 al quarto posto Cristian Gazzola Asolo Cycling ci prendiamo solo un piccolissimo break dalla premiazione perché è il momento della partenza della batteria 2 della G5 3 2 1 via al terzo posto Mattia Tonella San Fiorese abbiamo ripreso la premiazione della batteria 1 della G5 G5 al secondo posto Elia Galante Bandizion Cycling vince la batteria 1 della G5 un atleta lombardo portacolori dell'SC Mazzano Leonardo Zanardini autore di una meravigliosa attacco solitario che mi ha permesso di vincere e stravincere intanto noi salutiamo tutti gli amici che ci seguono sulla pagina social facebook di pianeta giovani pianeta ciclismo che tra poco sentiranno la voce del vincitore Leonardo sei pronto? Provami un po' il microfono delle interviste fammi un ciao ciao si sente bene perfetto mi racconti quando è che avevi programmato ti eri immaginato questo attacco solitario oppure è nato così all'improvviso si avevo chiesto a Dume se potevo provare poi quando si è presentata l'occasione sono andato ti piace la salita? si e invece tra i professionisti chi è che ti piace di più? Tadei e ancora Tadei Pogaccio vabbè vi ha stregati tutti quest'anno soprattutto Tadei Pogaccio a chi vuoi dedicare la vittoria della Coppetta d'Oro? al mio allenatore che se no mi sgrida come l'anno scorso alla squadra aspetta 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 no no fermati torniamo indietro facci bene il nome del tuo allenatore che ti ha sgridato dai fai nome e cognome Domenico Fagoni ah non lo conosce nessuno eh Domenico eh non lo conosce nessuno e a parte il tuo allenatore poi a chi la dedichi? alla squadra e alla mia famiglia bene fategli un altro applauso ha fatto un'azione bellissima va? a